L'atteso pronunciamento del Tar sui ricorsi arrivato nella tarda serata di ieri respinte le istanze del Movimento 5 Stelle che aveva presentato contro sei liste che erano state presentate appunto per le elezioni regionali e lo stesso verdetto è arrivato per le formazioni politiche che non erano state ammesse dal Tribunale. Anche questi ricorsi dunque respinti. Intanto i ricorrenti studiano la possibilità di presentare gli appelli al Consiglio di Stato. Ecco il servizio allora di Michele Ruggiero. L'onda d'urto di carte bollate dei grillini sul voto regionale del 25 maggio si è infranta dinanzi alla sentenza del Tar, il Tribunale Amministrativo del Piemonte, che ieri sera ha bocciato la massa ben 41 di ricorsi presentati dal legale di Davide Bono, aspirante presidente della regione per il Movimento 5 Stelle. Le sentenze si rispettano, affermato in proposito Bono, ma questo umanamente non attenua la nostra delusione. Eravamo e siamo convinti della correttezza, della bontà dei nostri ricorsi aggiunto. Ora attendiamo i testi del pronunciamento del Tar e insieme con i nostri legali valuteremo se appellarci al Consiglio di Stato. Il Movimento 5 Stelle ha presentato 41 ricorsi contro sei liste, 5 nelle 8 circoscrizioni provinciali, una regionale da NCD UDC ed altre collegate a Picchetto Forza Italia, Chiamparino centrosinistra e Filingeri altrasinistra. I grillini nel chiedere l'esclusione delle liste hanno contestato l'interpretazione della legge, secondo cui non è necessario raccogliere le firme per la loro presentazione, se le si collega ad un gruppo del precedente Consiglio regionale. Da qui il ricorso. Per i 5 Stelle è un consiglio fantasma perché è cancellato dalle sentenze di gennaio e febbraio rispettivamente di Tar e Consiglio di Stato. Tesi, come abbiamo detto, respinta ieri sera dalla prima sezione del Tar Piemonte, Presidente Lanfranco Balucani, che ha inoltre bocciato i ricorsi di nunzio, lista bunga bunga, e dichiarato inammissibile gli altri.